Avola minaccia al vicino e detenzione di arma, denunciato un settantenne. Agenti del commissariato di Avola hanno denunciato un uomo di 70 anni per il reato di minaccia, invasione di terreni e detenzione legale di munizione. La vicenda ha origine da distapore tra vicini di casa dovuti soprattutto all'utilizzo di un'area condominiale che il denunciato ritiene di sua esclusiva pertenenza minacciando un giovane che lo utilizza per il passaggio e qualche volta per giocare a calcio con gli amici. Il denunciato in questa occasione non si è limitato a rimproverare il giovane ma si è presentato a casa del ragazzo e ha proferito grave minacce nei confronti del padre. Per tali motivi l'uomo è stato denunciato e poiché deteneva legalmente un'arma, quest'ultima gli è stata sequestrata in via cautelativa. Nel corso del sequestro sono state rinvenute e sequestrate 5 cartucce calibro 765 che l'uomo deteneva illegalmente e per tali motivi è stato denunciato anche per detenzione illegale di munizionamento. Sempre ad Anvala, gli agenti hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 38 anni già sottoposto agli arresti domiciliari che su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato condotto nel carcere di Cavadonna. Grazie. Grazie.